Ciao a tutti. Cos'è la rivoluzione neolitica? Nel neolitico l'uomo inizia a coltivare la terra, cambia così il suo modo di vivere. Da nomade alcuni uomini si stabiliscono in un luogo e rimangono lì grazie all'agricoltura che ha permesso all'uomo di prodursi il cibo per poter rimanere in un luogo. Vi raccomando non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relative alla storia. Ciao ci vediamo al prossimo video.